Oggi abbiamo una grande iniziativa, arrivata al decimo anno, Tolfa, Gialli e Noir. Allora, questa ipotesi, intanto di dove nasce e a quanti anni siamo arrivati? Allora, siamo al decimo anno, Tolfa, Gialli e Noir nasce dalla brillante idea di un nostro concittadino che non c'è più, di cui abbiamo preso l'eredità, che è stato Glauco Felici, traduttore della letteratura sudamericana, uno dei più grandi in Italia degli ultimi anni. Siamo stati, posso dire, anche bravi da prendere questa eredità e portarla avanti e soprattutto non farla spengere mai. Quindi sono dieci anni ormai che il festival cresce, che si arricchisce, che si è allargato a scala nazionale e che diventa anche un festival di richiamo per gli stessi scrittori. Non solo è calendarizzato, ma secondo me è uno degli eventi di spicco di tutta l'estate e anche dell'autunno, perché ci sarà un secondo appuntamento, di Tolfa. Ovviamente è un festival che ha necessità di essere supportato e in particolare mi trovo a ringraziare costantemente la Fondazione Cassa di Risparmio perché ha compreso il valore dell'evento, lo ha compreso già dieci anni fa, lo comprende tuttora e nella figura della Presidente Gabriella Sarracco veramente lo sponsorizza in tutte le forme possibili. Perché crede in questa iniziativa? Allora, al di là del fatto che il premio letterario Glauco Felici ha anche inserito Fondazione Carici, ciò a sottolineare che la Fondazione è dentro questo evento che non oso non definire splendido. Grandi autori, grandi case editrici, tanto, tanto pubblico, è un festival popolare, è un festival che dà un forte impulso ai giovani, se pensate che è dedicato agli over 45. Quindi tanti, tanti giovani vengono, partecipano, chiedono quando esce il bando, quando sarà il giorno in cui ci sarà il festival. Teniamo conto poi, ci sarà nel Polo Culturale, che è un luogo incantato, un luogo bellissimo, che ci fa sentire ancora in una dimensione più alta. Quindi la Fondazione ci sta, continuerà ad esserci, perché eventi come questi non si possono abbandonare. Ricordiamo le date. Allora, le due serate, il 16 luglio con Alessandro Robecchi, che farà un po' da, diciamo, d'artista solitario in questa occasione, e invece il premio Glauco Felici il 17, quindi domenica. Siamo arrivati al prossimo fine settimana. Il luogo è il Polo Culturale, dove si gode di un'ottima temperatura, lo dico soprattutto a chi viene dal mare, una cornice del Tardo 1500, quindi veramente di spicco. Quindi siete tutti invitati a conoscere Tolfa, a conoscere il Polo e a conoscere Tolfa Gelli e Noire.